A pochi mesi dalla fine della legislatura, il DDL Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie dovrebbe presto veder la luce. Per fare il punto della situazione abbiamo intervistato l'onorevole Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Onorevole Marazziti, ripartono a pieno regime i lavori della Camera, da poco è stato approvato un suo emendamento al DDL Lorenzin di riordino delle professioni sanitarie, un DDL che a questo punto sembra essere in discesa? Sicuramente noi abbiamo sempre avuto la decisione di portarlo a termine. Direi che noi per la fine di settembre avremo chiuso in commissione, penso la settimana prossima, tutto il provvedimento e la seconda settimana di ottobre dovrebbe vedere la luce in aula. Quindi c'è il tempo poi per il Senato dell'ultimo passaggio e sto lavorando anche con la collega De Biasi, con i senatori, perché i cambiamenti che andiamo a introdurre siano un po' condivisi a monte. O condiviso a monte almeno lo spirito migliorativo del testo che non vuole stravolgere in nessun modo quello del Senato. Quindi in modo che questa legge veda la luce veramente entro la fine della legislatura e diventi legge. Ecco, un meccanismo che sembra aver sciolto un po' i nodi è quello del suo emendamento. Il meccanismo adesso, che tra l'altro è stata votata dalla nominità, sembra garantire un passaggio equilibrato tra il riconoscimento della professione e l'inserimento poi in un'ora. Ci sono tante professioni attinenti o vicine alla sanità che sperano di avere un riconoscimento pubblico, di avere più opportunità professionali attraverso il riconoscimento. Noi siamo arrivati a questa legge con tanti che hanno visto in questa legge l'ultimo autobus. Quindi o entri o non entri, però c'è chi dice che non toccano il paziente, è una professione tecnica che c'entra con la professione sanitaria. Ci sono sempre veti incrociati che hanno anche qualche ragione di essere dai rispettivi punti di vista. Io e la Commissione mi ha seguito in questo, ho pensato che dovevamo fare una legge non chiusa ma aperta, anche perché le nuove professioni sono in continua trasformazione. Il Ministero della Salute in sei mesi si pronuncia o su istanze che ha individuato o su istanze anche dal basso, dalle associazioni, e quindi non c'è più bisogno dell'intermediazione della lobby o della politica. Il Consiglio Superiore di Sanità fornisce un parere tecnico. Entro sei mesi quindi si finisce questa istruttoria. In tre mesi la conferenza Stato-Regioni si pronuncia per la parte di sua competenza. Contemporaneamente il MIUR stabilisce corsi di studio, verifica e fissa i criteri dell'equipollenza e dei crediti. Quindi in nove mesi tendenzialmente si può avere la certezza che la propria aspirazione venga presa in considerazione. Chi abusivamente utilizza il titolo di quella professione non lo può più fare, perché questo va a vantaggio anche degli osteopati veri, degli operatici veri, degli onototecnici veri, degli altri veri. In base a questo siamo poi arrivati all'articolo 4-5, gli operatici osteopati, quindi noi individuiamo le due professioni come le prime due che seguiranno questo percorso, ma per l'istituzione vera e propria bisogna ovviamente aspettare che questi sei, nove mesi passino e venga fatta tutta la trafilla come tutti gli altri. A questo punto si crea un criterio di giustizia e un criterio di trasparenza. Mi pare che il fatto che a seguito di questi due emendamenti siano stati ritirati tutti gli emendamenti sulle possibili nuove professioni avanzate da vari gruppi, da vari deputati, indica che c'è molta fiducia nel nuovo meccanismo che si è creato. Un'ultima domanda. Lei ha fatto un invito, proprio discutendo del DDL Lorenzin, al responsabile del Federfarma, al nuovo responsabile, Costolo, sulla possibilità di inserire un emendamento che possa in qualche modo anche lì chiudere in qualche modo una discussione che c'è aperta tra farmacie e parafarmacie. La risposta non è stata molto positiva. C'è questo veicolo, il DDL Lorenzin, quello cosiddetto sulle professioni sanitarie, che arriverà in porto. Dentro c'è anche un pezzo che riguarderebbe farmacia e parafarmacie. Oggi il problema farmacie e parafarmacie non è stato risolto. La materia è molto complicata, per cui ci vorrebbe bisogno di più tempo e non so se c'è questo tempo. Io ho fatto un invito, metto a disposizione la possibilità che abbiamo, perderla vuol dire semplicemente lasciare come stanno le cose e la prossima legislatura e quindi anni. Quindi io condivido la preoccupazione del presidente di Federfarma che dice ci vorrebbe uno strumento ad hoc, una legge quadro. Però noi abbiamo questo strumento e poi la legge di bilancio. Se le due parti, cioè i due mondi, non due sigle, volessero trovare una soluzione, un avvio di soluzione, abbiamo questi due strumenti. Oppure non c'è problema. A un certo punto del percorso parafarmacie che non vendono farmaci e farmacie che vendono farmaci e fanno un servizio di salute pubblica avanzata nel territorio. Per fare questo c'è il problema, forse di fermare i codici univoci, cioè di fermare l'apertura di nuove parafarmacie. Identificare quanti sono davvero i farmacisti che avrebbero necessità di seguire un percorso nuovo. Terza cosa, separazione dei gruppi proprietari. Cioè i farmacisti hanno partecipazione a farmacie, non dovrebbero avere partecipazione in parafarmacie. Questo è un po' più complicato con la legge sulla concorrenza che apre ai gruppi economici e non solo ai singoli farmacisti. Quindi c'è il problema delle partecipazioni incrociate. A questo punto, per forza di cose, bisogna creare dei canali di riassorbimento dei farmacisti che oggi operano in farmacie o sono titolari solo di parafarmacie. E questo percorso dovrebbe essere un percorso che garantisse anche ai farmacisti in difficoltà, c'è il problema dei farmacisti rurali. Si tratta di ampliare eventualmente il numero delle farmacie in Italia, in parte attivando quelle non attivate dal concorso della gestione del Presidente Monti e evidentemente a prenderne altre. Andando a vedere dove mancano, c'è fatto uno studio più accurato e più dettagliato del territorio, dei bisogni regionali. Però su questi principi tutte le parti che finora si sono confrontate e che ho ascoltato sembrano in linea di principio convergere. Io ora sentirò anche la federazione nazionale dei parafarmacisti, l'incontro l'opera stiamo a settimana e vediamo se riescono a produrre loro la base di un accordo. Se questo viene prodotto, allora può entrare nel DDL Lorenzi. Se non viene prodotto c'è da valutare se introdurre uno o due punti che permettano nei mesi successivi di arrivare a una soluzione possibile. In ogni caso è un'occasione che offro, quindi non è una imposizione di nessuno.